Quando non riesci a dormire la cosa più sbagliata da fare è rimanere a letto. Bisogna fare qualcosa altro. Parlo di questa poesia che si intitola Cose di notte. Non riesco a scrivere di notte. È un peccato che queste notti mi sveglio spesso e non riesco a riaddormirmi. Mi alzo, piscio, apro il frigo, vuoto, lo chiudo, guardo il letto, vuoto. Non si sa mai. Metto su la musica, bassa, mi corrico, guardo il soffitto, lo so a memoria il soffitto, cerco di leggere, io non riesco a leggere di notte. È un peccato, provo a contare le pecore. Dice che serve, non ci riesco. Io di notte non riesco né a leggere, né a scrivere, né a farmi conto. Mi rialzo, guardo nell'armadio, non si sa mai, vuoto. Spengo la musica, mi ricorrico, tento una sega. Ma che è inutile, rimane morbido. Entra la morte. Mi guarda silenziosa, seria, chiedo, è il mio turno. Mi sorride, mi batte il 5 e dice, dai scherzato, torno un'altra volta. Esce. Sotto, in strada, iniziano i tram, sopra nel cielo, inizia il giorno. La mia solitudine è una tigra e ammaestrata. Siamo amici, fin da bambini. Ci vogliamo bene, giochiamo come i bambini. Può staccarmi la testa con un morso in qualsiasi momento. Grazie. 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 Grazie.